Buonasera, buonasera. Questo è Mythscience, dove intervistiamo i protagonisti della scienza. Io sono Andrei Edini, sono membro di Mythscience, sono professore di fisica teorica Lund. Quest'oggi facciamo una pentata un po' speciale, in cui parlerò dell'entanglement quantistico a diversi livelli di difficoltà. Partendo dall'introduzione, poi andremo via via più nello specifico. Spero che adesso tutto sia partito e sia funzionante. Datemi un secondo per controllare. No. Forse. Dai, però. Ok. Ripeto da capo, nel caso in cui funzioni o che non funzioni. Buonasera, questo è Mythscience, dove intervistiamo i protagonisti della scienza. Io sono Andrei Edini, sono membro di Mythscience e sono professore di fisica teorica a Lund. Quest'oggi facciamo una puntata un po' speciale, in cui parlerò dell'entanglement quantistico a diversi livelli di difficoltà. È la sera prima di Halloween, o è Halloween oggi stesso, questa notte stessa. Quindi quest'oggi parleremo di questa speciale paurosa azione a distanza, come viene definita da Einstein, e cerchiamo di renderla ancora più interessante e chiara, e magari un po' meno paurosa, magari un po' di più, a seconda di quanto a fondo vogliate andare. Ora, questa è una puntata in cui spiegherò, e raccoglierò le domande fra poco. Solitamente facciamo interviste, quindi non mancate di iscrivervi, se vi interessa questo tipo di contenuto. Molte applicazioni si basano su come la meccanica quantistica consenta a più particelle di essere in uno stato condiviso, indipendentemente da quanto siano distanti. Questo si chiama entanglement, ed è appunto una proprietà tipica delle particelle quantistiche, ed è stato uno degli elementi più dibattuti dell'intera meccanica quantistica, sin da quando la teoria è stata formulata. Albert Einstein, a proposito di questa proprietà, ha parlato, ne ha riferito come se fosse una paurosa o spettrale azione a distanza, non gli piaceva proprio. Mentre Erwin Schrödinger ha detto che era la caratteristica più importante della meccanica quantistica, e molti concordano con lui, è proprio la caratteristica fondamentale, diciamo. Questa caratteristica fondamentale permette alcune e molte applicazioni, specialmente in ottica futura, come la mutazione quantistica, la comunicazione quantistica, e altre applicazioni che oggi si usano in ottica. Quindi se abbiamo tempo magari ne possiamo parlare. Intanto posso dire che le due particelle sono in due stati quantistici che si chiamano entangled, che vuol dire intrecciati in italiano, e quando qualcuno che misura la proprietà di una particella può determinare immediatamente il risultato di una misurazione equivalente sull'altra particella, senza bisogno di controllare. Questo di per sé non sembra così stravagante, così strano, perché è la stessa cosa che uno ha se costruisce un sistema composto da più di due componenti, da più di una componente, quindi con due componenti, che sono in qualche modo correlate. Cioè che hanno il loro risultato dipende l'una dall'altra. Ad esempio se io scrivo se un foglio di carta più uno e meno uno, e so che la somma totale dei numeri su questo foglio di carta fa zero, se io strappo questo foglio di carta, lo porto, mando una lettera di questo foglio di carta, la mando al mio amico in America, e gli dico guarda che la somma dei due numeri che c'erano su questo foglio di carta, di cui tu hai una metà, fa zero. Che qual è il foglio di carta che ho io in mano? Lui immediatamente saprà se io ho in mano il numero più uno o meno uno, a seconda se lui abbia ricevuto il numero meno uno o più uno. Quindi anche in quel caso, senza bisogno di controllare, lui sa immediatamente il risultato di una mia eventuale misura, anche se sono infinitamente distante rispetto, e più distante rispetto alla velocità della meccanica, premessa della meccanica quantistica. Però non è semplicemente tutto qua. L'entanglement, questo intrecciamento quantistico, non è semplicemente una correlazione, non è semplicemente il legame che hanno due particelle, che poi si traduce in risultato di certe misure. È un po' difficile da spiegare, senza portare degli esempi concreti, senza portare del formalismo che è tipico della meccanica quantistica. Però ci proverò lo stesso. Allora, ho fatto questo esempio che non ho inventato io, però non mi ricordo da dove l'ho preso, se mi era stato detto dal mio professore o in qualche discorso, o magari sì, l'ho inventato io a un certo punto. Non saprei. Non è particolarmente originale, però credo che illustri bene il concetto. Immaginiamo che ci sia un ristorante, che chiamiamo il ristorante di Bell. Io e mia moglie domani, per festeggiare il mio compleanno, che sarà domani, se qualcuno volesse farmi gli auguri e i regali potete scrivere in chat. Andiamo a questo ristorante. Siamo grandi innamorati e siamo innamorati così forti che abbiamo un collegamento quantistico fra di noi, come alcuni autori italiani si ostinano a dire. Ora, se io e lei siamo innamorati quantistici, noi abbiamo questa grande abilità che se io ordino il vino rosso, Chiara ordina sempre il vino bianco, perché lei piace il vino bianco, però anche per spaiare un po'. Quindi, a seconda di quello che io ordinerò, lei ordinerà il contrario. Se io ordino il rosso, lei ordina il bianco, se io ordino il bianco, lei ordinerà il rosso. Ok, fin qua tutto bene. Possiamo andare al ristorante, possiamo ordinare i nostri due calici complementari, uno rosso e uno bianco, e il cameriere vedrà l'ordine e saprà che i nostri ordini sono correlati e non potrà distinguere se la nostra correlazione è un entanglement quantistico o è semplice correlazione classica. Ora, supponiamo però che in questo ristorante di Bell è un ristorante un po' particolare, dove controllano se il nostro è vero amore quantistico o no. E come fanno? Ci danno due camerieri, uno a testa. Dividono il nostro tavolo con un pannello fonoassorbente nel mezzo, così che noi, fra di noi non possiamo comunicare e noi non sentiamo che cosa dice il cameriere in questione a noi e qual è la nostra risposta. Ora, non solo noi vogliamo avere due vini di colore diverso se possibile, però dato che io sono un ricercatore, un professore, sono un po' squattrinato e dato che al mio compleanno voglio offrire io, rimango comunque un po' squattrinato. E allora cosa faccio? Decidiamo che non possiamo permetterci due bottiglie di vino, o una bottiglia, un bicchiere o due bicchieri di vino. Se mai il cameriere ci offrisse una bottiglia a testa, noi dovremmo scegliere entrambi lo stesso colore. Quindi noi vogliamo scegliere sempre colori diversi, però il colore dovrà essere lo stesso nel quel caso in cui i camerieri chiedano a entrambi di noi una bottiglia. Perché in questo modo portano una bottiglia sola del colore prestabilito bianco o rosso. Quindi non ha importanza in quel caso il colore, ma ha importanza il fatto che noi entrambi chiediamo lo stesso colore. Quindi o entrambi chiediamo rosso o entrambi chiediamo bianco. Mentre nel caso in cui il cameriere ci offra un bicchiere o un bicchiere a testa o a uno di noi una bottiglia e l'altro un bicchiere, noi vogliamo, secondo le nostre preferenze, avere una bottiglia di rosso e una bottiglia di bianco. Ok? Chiaro il concetto, l'idea, il setting, il setup. In questo caso, insomma, se non esiste l'amore quantistico, se il nostro non è vero l'amore quantistico ma è solo la correlazione, al massimo potremo ordinare correttamente il 75% delle volte. Noi possiamo stilare una piccola strategia in cui se ci ordinano, se ci chiedono di ordinare una bottiglia, allora sceglieremo sempre un certo colore, però a quel punto il bicchiere potrà avere due colori uguali, no? Ci possono stilare diverse strategie, potete fare questo gioco e cercare qual è la strategia più efficiente, ma vi garantisco che al più potrete avere il 75% delle volte quello che volete. O finirete per ordinare due bottiglie di colore diverso, o finirete per ordinare due bicchieri o due, una bottiglia o un bicchiere di colore uguale, a seconda di come stabilite questa strategia. E questo avviene il 75% delle volte. Però, se il nostro amore è vero amore quantistico, invece, quando i camerieri del ristorante di Bell proveranno a ripetere questo esperimento diverse e diverse volte, vedranno che ordineremo sempre, correttamente, come vogliamo, l'85% delle volte, non sempre, scusate, ordineremo correttamente l'85% delle volte e non il 75%. In questo modo potete vedere che non è semplice correlazione, perché è una correlazione, una strategia che io e lei possiamo stabilire prima di andare al ristorante o poco prima di ordinare, potrà avere soltanto il 75% delle risposte giuste. Invece, se i nostri esperimenti supereranno questo 75%, allora si sarà dimostrato che c'è un qualche tipo di scambio di informazione fra di noi che ci permette di superare questo limite caratteristico della teoria classica. Quindi, questo è il risultato dell'entanglement. Questo è il senso, quello che io vedo come è la principale caratteristica di un sistema quantistico e dell'entanglement quantistico comparato con un sistema classico e una correlazione classica. Il fatto che i risultati siano diversi e è possibile correlare in qualche modo due diverse misure in modo più frequente di quanto sia possibile farlo nel caso classico. E questo è stato inventato da un certo tipo che si chiama Bell, ed è questa l'essenza fondamentale della disuguaglianza di Bell. Se invece è meno della percentuale attesa è il tradimento quantistico. Sì, esattamente, maledizio, esattamente. O forse non eri proprio più furbo del mondo. Ma va bene così. Comunque, questo ristorante è molto importante, io vorrei aprirlo qui a Lund, prima o poi magari lo farò. Però questo è quello che i fisici fanno per verificare che due particelle o quanto resista questa test della correlazione quantistica. Prendono due particelle quantistiche, le collegano fra di loro attraverso diversi processi, a seconda del test che vogliono fare, del tipo di esperimento che vogliono fare, le inviano lontano, lontano, in modo che non possono comunicare fra di loro in tempo utile, e poi vedono se i risultati delle loro misure saranno coerenti il 75% delle volte, o comunque un certo numero di volte, o supereranno questo limite classico, di collegamento classico, che è possibile avere stabilendo una strategia prioritaria. E poi il trucco, la difficoltà, sta tutta nel fatto di escludere possibili trucchi che uno può adottare quando è al ristorante di Bell, cioè parlarsi sottovoce, mandarsi dei messaggini, tutti questi trucchi le potrebbero fare anche le particelle classiche, diciamo, ci potrebbero essere dei metodi con cui delle particelle classiche potrebbero correlarsi in modo diverso, più coerente rispetto a quello che è un'esatta correlazione che si aspettano gli sperimentatori, e mano a mano gli sperimentatori ne escludono una o un po' l'altra. Ora, a prima vista, in un certo senso, questo non è così strano, però, in dato, cioè, a voi, sembra soltanto che la percentuale è soltanto una questione di percentuale, e un po' lo è. Però, dal punto di vista fisico, questo determina una conseguenza molto profonda a livello della nostra interpretazione e comprensione della realtà. Perché seppure, a livello pratico, questo si dimostra soltanto in questo modo, in questa correlazione, si dimostra soltanto in questo modo, in questo modo sperimentale, che aumenta la possibile correlazione fra due particelle rispetto al limite classico, non è, ha delle conseguenze pratiche, ma in realtà, in ordine, in modo da avere questo tipo di correlazione, fisicamente, è molto profondo le conseguenze di questo fatto che noi sperimentiamo. Ed è questo il motivo per cui Einstein non sava proprio bene questa caratteristica delle particelle quantistiche, e, motivo per cui, ha ideato una serie di possibili esperimenti paradossi per dimostrare che la realtà quantistica in realtà non si comporta, nel modo in cui è stata modellizzata inizialmente dalla scuola di Copenhagen, quella che viene chiamata scuola di Copenhagen. In realtà, Bell stesso, che ha ideato questo possibile test, che io sappia, aveva l'idea di dimostrare con questo test, o aveva una preferenza verso il dimostrare con questo test, che la meccanica quantistica in realtà fosse, si comportasse esattamente come diceva Einstein, e che l'esperimento confermasse questo 75% di possibilità di correlazione fra due misure, e, invece, fu stupito quando gli esperimenti iniziarono a confermare il contratto. Questo è anche un tema molto moderno, perché a ottobre, questo mese ancora, sì, qualche settimana fa, è stato assegnato il premio Nobel per la fisica a tre importanti scienziati che hanno lavorato in questo ambito, Clauser, Aspect e Zeilinger, sono tre importanti scienziati che hanno realizzato sia modelli teorici che esperimenti pratici per dimostrare, riuscire a produrre stati entangled, particelle in stati entangled, e dimostrare eventualmente la possibilità della disuguaglianza di Bell in un modo o nell'altro. Quindi, le conseguenze fisiche, che ho cercato di evitare finora, sono molto profonde e riflettono col fatto che queste due particelle quantistiche, in un qualche modo, riescono a scambiarsi qualche tipo di informazione che non è un'informazione classica, non è necessariamente lo stesso tipo di informazione che avviene fra noi due, che è adesso che ci stiamo parlando, ma è comunque una specie di informazione che ha a che fare con le particelle quantistiche e se la trasferiscono indipendentemente, istantaneamente ed indipendentemente da quanto lontana esse sia. Ora, questo può avere delle conseguenze sulle possibili interpretazioni della meccanica quantistica, su come noi pensiamo che le particelle esistano al di là dei nostri modelli. Ora, tutti i modelli, ci sono tanti tanti modelli, non tutti, ma ci sono tanti tanti modelli che sono possibili dalla meccanica quantistica e che non sono fra di loro compatibili. Sono compatibili a livello sperimentale, danno eventualmente gli stessi risultati sperimentali, alcuni di questi, altri di questi sono esclusi dai risultati di questo esperimento della disuguaglianza di Bell, e altri di questi però danno gli stessi risultati sperimentali, però in modi non compatibili fra di loro, filosoficamente parlando o riguardo a un'interpretazione di cosa accade fisicamente. Quindi questo apre tutto un vaso di Pandora che ha a che fare con il modo in cui noi interpretiamo i risultati della meccanica quantistica in senso ontologico, se volete, nel senso di capire la realtà, l'ultima realtà fisica di cosa sia fatta, come le funzioni d'onda che descrivono le particelle quantistiche si riflettano nella realtà fisica del mondo, di cosa succede in realtà, tra virgolette, tra tante virgolette. E questo apre una grossa parentesi filosofica che ha a che fare con l'interpretazione della meccanica quantistica e la filosofia relativa alla meccanica quantistica e alle sue interpretazioni. Ora, spero di essere stato chiaro in questa breve introduzione, o non tanto breve, di aver chiarito un po' di punti. Penso e spero di aver toccato tutti i punti importanti, sicuramente toccato tutti i punti che mi ero prefissato di toccare. E questa è una prima spiegazione che, spero, non necessiti di grandi precedenti competenze in abito matematico e fisico. Ovviamente poi il discorso può essere sofisticato moltissimo. E può essere sofisticato moltissimo appunto nell'aspetto specialmente fisico. Nel senso che questi test della meccanica quantistica, queste particelle in stati entangled, come vengono misurati in pratica dai fisici nel mondo? Ci sono diversi metodi. Si possono usare fotoni, cioè quanti di luce, ovvero luce emessa usata da laser e trattata in modi opportuni, si possono usare persino particelle fisiche come elettroni o protoni o addirittura molecole. È stato fatto un esperimento da Zeilinger a proposito di molecole. In più, si possono fare diverse distanze ovviamente. I metodi più sofisticati e quindi si cerca di costruire questi stati entangled o andando sempre più in grande, cercando di costruire stati sempre più grandi che abbiano questa proprietà speciale di correlazione molto frequente, o sempre più distanti, che lo siano, che mantengano questa correlazione, a prescindere dal rumore, dalla distanza, da una serie di fattori che vanno a impattare fisicamente sullo stato del sistema. Il record, attualmente, se vogliamo parlare dei limiti della presente ricerca, il gruppo di Zeilinger stesso, assieme a un gruppo cinese, è riuscito a mettere e misurare la disuguaglianza di Bell, e mettere coppie di fotoni in stati entangled, persino a distanze continentali, fra l'Europa e la Cina, attraverso collegamenti satellitari. Quindi addirittura è stato possibile mantenere questa caratteristica di stati entangled non solo sul tavolo sperimentale, come era stato fatto negli originali esperimenti di Klauser e poi di Aspè, ma anche su distanze molto più grassi. Zeilinger ha avuto questa tendenza al gigantismo sempre di più, ed è prima ha fatto, ha iniziato a realizzare fra diversi laboratori, poi è passato a realizzarlo fra diverse città, poi è passato a realizzarlo fra diverse isole delle Canarie, sempre attraverso fibre ottiche, e questo ultimo salto che è stato fatto è invece riuscire a legare coppie di fotoni in stati entangled attraverso collegamenti satellitari a distanze siderali quasi, a distanze almeno continentali. Il che è molto interessante perché riuscendo ad avere sempre sempre maggior distanza si conferma sempre di più questo aspetto della disuguaglianza di Bell, perché nel mio ristorante di Bell noi eravamo separati da un pannello ideale, perfetto, però il pannello più perfetto che possa esistere per separare due cose è la stessa velocità della luce. Se io faccio delle misure e riesco a collegare queste misure sincronizzandole in modo che so che le due misure che io faccio sono più vicine in tempo fra di loro rispetto alla distanza nella velocità della luce che le separa, al tempo che le separa percorso la velocità della luce, significa che sto confermando il fatto che queste due particelle non possano comunicare in maniera classica, che deve essere per forza rimanere al di sotto della velocità della luce. E più io faccio questa distanza, più sono sicuro, perché la velocità della luce è molto veloce, ma a distanze molto grandi inizia ad essere misurabile, anche non così grandi in realtà, cioè un filo non troppo lungo, la distanza di qualche metro corrisponde a una distanza in termini di tempo di qualche nanosecondo. L'elettronica oggi riesce a distinguere nanosecondi, però quando la distanza diventa molto molto grande, nell'ordine di centinaia di chilometri o di migliaia di chilometri, allora la distanza inizia ad essere frazioni molto consistenti di secondo che allora possono essere sicuramente controllate o sotto controllo. Sulla distanza avranno preso delle stelle, mi sembra. Quello delle stelle è una... sì, se si va proprio all'estremo, uno potrebbe verificare che una stella riesce a emettere fotoni in modo, in questo modo in tango, perché è sempre possibile che al di fuori del centinaia di migliaia di milioni di miliardi di fotoni che una stella emette, ce ne sia qualcuno che sono collegati in uno stato quantistico, date le proprietà del plasma che abita nella superficie stellare, e quindi quando con i miei telescopi, un telescopio qui, un telescopio lì, riesco a misurare i due fotoni, se vi riesco a vedere, riducendo il fondo in tanti modi, se riesco a vedere questa di nuovo proprietà che supera la correlazione classica, allora posso verificare che siano rimasti entangled anche a distanze veramente siderali, anni luce di distanza da dove viene la stella o a minuti luce di distanza data dal sole. Spesso addirittura anni luce di distanza hanno fatto questa verifica, però sì, è più controverso per il semplice fatto che uno non ha il controllo di questo entanglement, quindi questo non credo che venga realmente utilizzato come prova della disuguaglianza di Bell. Viene invece utilizzato in modo più massiccio comunicazioni di lungo raggio come queste fra i satelliti. E ci sono stati anche dei test che invece si basano sull'avere tanti 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 dati a disposizione, è stato eseguito quello che qualche anno fa, quello che si chiamava Big Bell Test, che con degli sperimentatori e con dei computer collegati in diversi angoli del mondo, dall'Australia al Canada, potevano verificare. Questo è stato anche un esperimento in cui i cittadini normali potevano partecipare donando a disposizione il proprio computer per qualche ora. Quindi sono veramente tantissimi, tantissimi metodi con cui viene verificato, verificata la disuguaglianza di Bell o con cui viene testata, vengono testati gli stati entangled. Questo dal lato dei fotoni, ma dal lato della materia uno può volere andare sempre più grande, non solo sempre più distante, ma anche sempre più grande. E in tal senso si è arrivati a mettere in collegamento non solo, come vi dicevo prima, particelle massicce come possono essere protoni o molecole, addirittura come possono essere delle molecole di carbone, 60, quindi delle macromolecole, molecole molto grandi, ma dei veri e propri sistemi composti in un certo senso macroscopici, anzi non in un certo senso, quelli che noi fisici chiamiamo sistemi macroscopici, che sono comunque molto molto piccoli, sono della dimensione del micrometro, se volete dopo ve lo posso far vedere, sono della dimensione del micrometro, quindi sono degli oggetti che sono comunque quasi invisibili a occhio nudo, possono quasi essere visti a occhio nudo, adesso non so, l'esperimento in particolare per rivolgersi in un ambiente molto controllato, quindi dubito che ci sia la possibilità di vederlo ad occhio nudo, però come dimensione inizia a essere visibile a occhio nudo e come massa si avvicina a masse, cioè sono delle masse che noi fisici chiamiamo grandi, perché finora noi abbiamo parlato appunto di collegamenti fra due fotoni, fra due particelle quantistiche. Gli oggetti, come noi siamo noi, se voi avete fatto chimica, avete visto il numero d'avogadro, il numero d'avogadro è un numero molto molto grande, e 6 per 10 è la 23, quindi 6 con 0, 0, 0, 0, 23, 0, e quello è il numero di molecole che sono in una mole, in un grammo, in un grammo di idrogeno, in, non so, in, cos'è, 16 più 16, 32, scusate, sì, 16 più 8, sì, o 32 grammi di ossigeno o 8 grammi di acqua, ci sono 10 alla 23 particelle, noi diciamo 10 alla 23, 10 con 23 zeri, 6 con 23 zeri dopo, quindi un numero smisurato, miliardi di miliardi, di miliardi, di milioni di particelle. Consistono in un oggetto macroscopico, come può essere una persona, no? Invece, le particelle sono poche, no? Quelle di cui ho parlato appunto sono collegamenti fra due particelle. Quanti questi collegamenti si possano riflettere, quanto questi collegamenti si possano riflettere in un collegamento fra sistemi macroscopici? Ora, questi sistemi macroscopici, come ho detto, dimensione di 5 micrometri, peso di 70 picogrammi, quindi quasi in nanogrammi, che sono pochi pochi pochi, sono 0,000 con 9 zeri, o sì, 70 sono 10 zeri e poi 7, quindi un decimo di miliardesimo di grammo, che però è molto, ma molto, ma più grande di 10 alla meno 23, ok? Con 23 zeri c'è un'enormità. Quindi questi oggetti sono composti da un numero enorme di molecole, non sono ancora gli oggetti grandi, non pesano tanto, non sono grandi come dimensione, ma sono costituiti da un numero enorme, smisurato di molecole. Ed è stato verificato l'anno scorso che due tamburi fatti in modo particolare sono stati collegati fra di loro e sono stati messi in vibrazione l'uno con l'altro ed è stato osservato, sempre con questo trucco dell'osservare quanto correlati sono due oggetti che non comunicano direttamente. È stato osservato che questi due tamburi sono molto più correlati rispetto a quello che potrebbe permettere un limite classico. E in questo senso, se tu hai tante 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 particelle, la correlazione fra le particelle diventa classica molto molto in fretta. Questo è il discriminante fra il mondo quantistico e il mondo classico. Il fatto che avendo tante 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 particelle, tutte queste particelle sono messi in collegamento, questi collegamenti sono rumorosi e questo determina che da una miriade di collegamenti entangled fra particelle quantistiche, emerga semplicemente una piccola correlazione classica fra stati diversi. Una piccola o grande correlazione classica, secondo modo di come ho fatto l'oggetto, ovviamente è ok, è di come stabilisco e definisco la correlazione. Però comunque una crelazione di tipo classico, perché questi collegamenti entangled sono tutti, spingono tutti in direzioni diverse in un certo senso, questo determina un rumore enorme. E questo è vero anche per questi due tamburi. Presi individualmente, questi due tamburi appaiono solo vibrare per i fatti loro, in modo molto rumoroso, con una vibrazione che è molto molto calda, in modo rumoroso, che può essere interpretato come una temperatura. Quindi sembrano semplicemente delle membrane calde, però osservando queste due membrane calde, tutte assieme, si nota una piccola correlazione fra di loro. Dato che il numero di particelle è enorme, l'aspettativa della loro correlazione classica non è 75%, non è 10%, non è 1% o 0,1%, l'aspettativa della loro correlazione classica è microscopica, è quasi nulla. Quindi se io vedo, individuo una correlazione fra queste due particelle, fra questi due tamburi, allora se questa correlazione ha un certo tipo di marchio, che può essere estratto, cioè la correlazione in realtà c'è perché deriva dal fatto, dallo strumento sperimentale. Però teoricamente, dal punto di vista della teoria, la correlazione fra questi due oggetti, quando sono sottoposti a una temperatura, è nulla. Ora, al di là, una volta che pulisco tutti gli effetti sperimentali, quando mi rimane una correlazione che io osservo, allora quella correlazione posso dire che è quantistica, anche se è relativamente piccola. E questo è importante nel testare la diseguiglianza di Bell su un'altra dimensione, anziché andare su sistemi che hanno già forte correlazione, perché sono piccoli, e portarli distanti e distanti e distanti e vedere questa correlazione diventare enorme, prendere due sistemi che sono per nulla correlati, perché sono molto grandi, e vedere piccole e piccole fluttuazioni, quanto queste piccole fluttuazioni sono correlate, e verificare anche in questo modo, in questa dimensione. Grazie Andrea De Marco per seguire comunque, vi invito tutti a seguire, adesso che ho più o meno spiegato, a seguire il canale, mettere una vostra sottoscrizione, mettere la campanellina se vi piacciono queste cose, e partecipare sui nostri social Instagram e Scienza, gruppo Scienza su Telegram, chiocciola Scienza su Telegram, e mi raccomando di mettere commenti, cercare di quanto più possibile di avere un engagement con la nostra pagina, di condividere, di mettere commenti, di mettere mi piace, anche che vi sembrino sciocchi, a parte che non esistono domande stupide, fa sempre piacere ricevere una domanda genuina, ma anche che fosse un complimento, ma anche che fosse una critica, qualsiasi cosa, a noi ci aiuta, ci aiuta a capirvi, ci aiuta a capire i vostri gusti, e ci aiuta anche a far contenti gli algoritmi che ci comandano sempre, e a diffondere mi sai, sempre più in là. Eh sì, è il mio compleanno, quindi se volete farmi un regalo... Ok, leggiamo un po' di commenti adesso, ho spiegato, ho fatto questa introduzione, ho spiegato anche della realtà, della modernità degli esperimenti, vediamo un po' cosa si dice. Adesso recupero un po' le vostre domande, quindi non esitate a fare altre domande se ne avete. Io comunque sono vestito da principe di Pellera, quanto pare. Ho anche il mio cappellino MSU, della Michigan State University, non so se il principe di Pellera è andato alla Michigan State University, non credo proprio, che fosse in università. Ma perché non mi ha spiegato la fisica in questo modo? Forse avrei capito più di 12 anni fa. Ah ok, Chiara, eh, oh, farò più esempi col vino, non so cosa dire. La dieta quantistica, Luca chiede se esiste la dieta quantistica che ha meno correlazione con quello che ti entra in pancia e che viene assorbito. Eh, quella è la prossima frontiera delle truffe, vendere diete quantistiche. Sono sicuro che ci sarà un libro, The Quantistic Diet, di qualcuno tipo dottor Oz. Domanda di Maurizio. Ma nell'interpretazione corrente non si crede all'amore quantistico ma si dice che io, vino bianco o rosso, non sia un elemento di realtà, ma venga fuori con proiezione solo in misura? Allora, nell'interpretazione corrente, allora, prima cosa da chiarire, non esiste un'interpretazione corrente, nel senso che se si va a una conferenza di gente che si occupa di fondamenti della meccanica quantistica e si fanno un po' di domande, quindi solo ed esclusivamente di gente che in teoria è sul forefront della ricerca e loro dovrebbero essere, dovrebbero essere concordi più di tanti altri, più di tutti gli altri, e si chiede qual è la vostra, la tua interpretazione quantistica preferita, e si fa un sondaggino, viene fuori che l'interpretazione quantistica preferita ha forse il 23%, non è, non è, non in maggioranza assoluta, ma in banale maggioranza relativa e anche ben lontana dall'essere una maggioranza schiacciante, e credo che sia ancora l'interpretazione di Copenhagen, e poi altre interpretazioni molto frequenti sono l'interpretazione di molti mondi, e altre, poi ci sono, queste sono le due interpretazioni più in voga, diciamo, anche se molti mondi è un brutto nome, diciamo Everett Interpretation, l'interpretazione di Everett della meccanica quantistica, queste due sono quelle che vanno più in voga presso chi studia l'argomento, chi dovrebbe avere un'opinione, ma non c'è una interpretazione che stravince su tutto, e anche la somma di queste due non so se raggiunge il 50%, se la raggiunge è per un minimo, lo supera di poco poco. Quindi l'interpretazione moderna non esiste, corrente, ci sono diverse interpretazioni, e appunto a seconda di come si interpreta il risultato della meccanica quantistica e il significato di quello che è la funzione d'onda, quindi una particella quantistica, un oggetto quantistico, è una certa funzione d'onda o è una certa funzione d'onda? Cioè la funzione d'onda che uso per descrivere l'oggetto quantistico è semplicemente un aiuto a me che voglio descrivere un sistema fisico e quindi faccio del mio meglio e costruisco un modello? È un modello? O è la realtà? È la particella che ha una funzione d'onda ed è distribuita su una funzione d'onda. E quando io misuro questa funzione, questa particella, faccio un collasso di questa funzione d'onda fisica, cioè ho una funzione d'onda che è distribuita e improvvisamente bloop, si mette in una certa situazione perché io ho misurato ad esempio rosso o bianco il vino, quindi se la funzione d'onda precedente al mio ordine fosse, sia distribuita fra rosso e bianco, quando il cameriere misura, lui provvede a far collassare la funzione d'onda su uno dei due stati specifici e l'altro stato si annulla. Quindi se la funzione d'onda è un oggetto fisico, allora la funzione d'onda è proprio un oggetto che è rappresentabile con un istogramma e che si rivolve nel tempo e quando il cameriere lo misura, a un certo punto, bloop, scende da una parte e si alza dall'altra, no? O se io guardo una funzione d'onda distribuita nello spazio, se io ho una funzione d'onda distribuita nello spazio come una gaussiana in questo modo qui, a un certo punto la misuro qui nello zero, misuro la particella che è in questa posizione qui e bloop, la funzione d'onda si schiaccia e diventa una delta di dirac esattamente posizionata in zero. Perché ho misurato quella posizione? Eventualmente con un minimo errore, quindi da essere una distribuzione in un certo tipo si schiaccia in un certo modo. Quindi è un movimento fisico questa funzione d'onda, perché la funzione d'onda è un oggetto fisico, o è semplicemente una mia interpretazione? Ora, giusto per dirvi queste due grandi idee che hanno la meccanica quantistica, nell'interpretazione di Copenaghen la funzione d'onda non è un oggetto fisico, quindi in un certo senso non c'è un oggetto fisico che dice che io voglio un vino che sia sia bianco che rosso e a un certo punto il cameriere collassa la funzione d'onda, non c'è che la particella è distribuita, la massa che è distribuita in una certa dimensione spaziale e poi il mio rivelatore in una certa posizione la fa muovere verso una certa specifica posizione. L'interpretazione di Copenaghen non dice questo, dice che l'unica cosa che esiste sono le misure, quindi il fatto che io rappresenti la funzione d'onda come una distribuzione nello spazio è un oggetto che io creo per rappresentare la mia conoscenza della funzione d'onda e l'unica cosa che esiste sono le misure. E questa funzione d'onda che è distribuita nello spazio in un certo modo corrisponde a una certa altra misura, a una certa misura e se io cambio il tipo di misura allora la faccio corrispondere a un'altra misura e quelle due misure esistono, esistono fisicamente, esistono in due posti o luoghi o tempi diversi dello spazio-tempo e così via e così via e così via. Quindi le misure esistono una funzione d'onda no. Nell'interpretazione di molti mondi si tende, anche se non è del tutto vero, non è del tutto univoco, si tende a interpretare il fatto che la funzione d'onda esista e però la misura in realtà non esista la misura. Cioè il problema grosso è che questa operazione di misura, avere due particelle in stati entangled distanti fra di loro, avere una particella con una funzione d'onda che è fatta così e da una distribuzione spaziale e poi misurarla in una certa posizione è un problema per la teoria, perché questo significa che io ho della massa che prima è distribuita in questo modo e dopo si chiude così. Io ho dell'informazione che prima è distribuita fra due particelle e dopo diventa singola in due particelle immediatamente, senza rispettare la relatività speciale. E questo non è concesso, non va bene, non piace a nessuno e quindi non è concesso dalla disuguaglianza di Bell stessa. Quindi bisogna trovare una soluzione che o interpreta la funzione d'onda in modo epistemico, si dice, fra i grandi nella filosofia, cioè in modo che rappresenta la mia conoscenza del sistema ma non la fisica del sistema stesso, questo mia può avere diversi significati, di nuovo, vabbè, lasciamo perdere, oppure ontica, cioè che ha una realtà fisica, quella funzione d'onda, che esiste, che è una proprietà ontologica, che però a quel punto però se io dico che la funzione d'onda ha una realtà ontica non posso attribuire alla stessa realtà ontica le misure, ok? Perché o delle due luna, entrambe non possono avvenire perché Bell ci dice che entrambe non possono avvenire. Quindi questa è la cosa molto profonda che si collega anche alla filosofia e ci sono una serie di interpretazioni che cercano di coniugare questi due aspetti, perché uno vorrebbe dare un'interpretazione più fisicalista alle cose che ci sono le nostre teorie fisiche, perché se un elettrone, vediamo un elettrone nei nostri strumenti di misura, non ci basta dire, ok, l'elettrone è il modo che io ho di interpretare la carica, no, l'elettrone esiste, l'elettrone è lì, e l'elettrone ha questa carica che io so, che io misuro, che è sempre la stessa, io ho una serie di proprietà che l'elettrone ha, che mi fanno dire che l'elettrone ha una realtà dell'elettrone, non è solo una mia interpretazione. Nello stesso modo in cui dico che l'elettrone ha una realtà, che il protone ha una realtà, voglio però dire se la funzione d'onda abbia una realtà, che ci sia qualcosa che abbia una realtà, o la funzione d'onda o le osservabili, le misure che io faccio. Delle due l'una, purtroppo, Bell ci dice, vorrei entrambe, ma delle due l'una. E quindi, vabbè, in questo si distinguono le varie interpretazioni. Quindi abbiamo anche toccato questo aspetto un pochino avanzato, ma che spero vi interessi. Ci sono una serie di, se siete più interessati, possiamo parlare di nuovo, ci sono anche un paio di video miei, se cercate Andrea Hidini, interpretazioni della meccanica quantistica, potete trovarli anche in inglese, il migliore o il più avanzato, potete trovarlo cercando Hidini, Interpretation of Quantum Mechanics, ed è stato, fa parte di una serie di lezioni UFBA Philosophy Lectures del Dipartamento di Filosofia di Università Brasiliana. Quindi potete trovarli, sono stato intervistato dal professore di quel corso che si chiama Emiliano Boccardi, quindi potete guardare se siete più interessati in quello. Ok, andiamo avanti. Come hanno messo i tamburi in entanglement? Ottima domanda. Io faccio share screen? No, non l'ho impostato, dovrei impostarlo. Mannaggia a me, mi si è disimpostato OBS e non ho avuto tempo di reimpostarlo, quindi non posso farvi vedere. Praticamente i due tamburi sono in collegamento attraverso delle induttanze. Se sono collegati da un circuito elettromeccanico e le induttanze li mettono in collegamento fra di loro, c'è una serie di accortezze per fare in modo che le induttanze vadano a non a collegarle in modo diretto, ma a collegarle in modo indiretto e in questo modo allungare il circuito rispetto ai limiti della teoria classica, appunto, perché poi uno lo deve analizzare. Però l'analisi è comunque abbastanza robusta perché basta analizzare la correlazione analizzando le proprietà fra questi due oscillatori e quindi anche una volta fatto al netto dei problemi di rumore è possibile verificarlo in modo piuttosto robusto anche se ci sono un po' di questi loop. Non è, non credo almeno da come l'ho capito io, non credo sia quelli che si chiamano in gergo loop complete test, cioè non è un test che preclude ogni possibile comunicazione classica fra i due sistemi all'interno delle due misure, però è una misura statistica dell'entanglement che è fatta come raccontato, insomma. Benissimo. Per San Valentino l'amore è cotistico ed obbligo, molto. Devo ripetere questi episodi a San Valentino vestito da Cupido? Ok, è chiaro. Comprami un costume e ci penseremo. E ok, altre domande. Un altro sistema che vi posso mettere in descrizione, adesso lo metto in chat. Purtroppo oggi non sono riuscito ad avere una... Non so se il link è cliccabile, però se cercate questo... Questo... Lo rimetto, provo a rimetterlo. Vediamo se funziona. Comunque se cercate... Generating quantum entanglement between macroscopic objects with continuous measurement and feedback control. Ecco chi è apparso su Archive. Lo trovate, è un articolo molto recente, di settimana scorsa, dove un gruppo giapponese mette in comunicazione, dicono quantistica, dicono entangled, due specchi. Attraverso una serie di specchi mettono in comunicazione questi due specchi, che anche questi due specchi si mettono a vibrare e verificano che questi due specchi sono collegati in modo quantistico, nonostante la loro massa, che è molto grande, 7 milligrammi. Quindi è un grande step in avanti, un ulteriore grande step in avanti, nel corregamento fra sistemi quantistici. Ora non ho le competenze, se devo essere sincero, per stimare, per fare il referaggio di... Non ho neanche il tempo, per fare il referaggio di questo paper, per vedere quanto sia sperimentalmente ben fatto. Questo servirebbe un fisico ottico sperimentale. Ne abbiamo nel gruppo, quindi magari loro possono fare un referaggio e darci un'opinione su quanto sia ben fatto questo esperimento. L'ho postato sul gruppo Scienza qualche giorno fa, mentre mi stavo studiando per questa live. Quindi l'ho trovato abbastanza interessante. E anche in questo caso, loro analizzano, praticamente mettono a vibrare lo specchio. Ed è molto divertente, perché un tamburo vibra, no? Ed è... la vibrazione del tamburo è piuttosto caotica. Non c'è altro senso a queste scale. Mentre ovviamente poi, in realtà, il tamburo ha anche i suoi modi, no? Quindi può vibrare... Così, semplicemente. O può vibrare... Un po' così. Quindi ha i suoi modi il tamburo di vibrare, però questo sistema ha un sistema del genere troppo noisy, troppo rumoroso per poter osservare e isolare diversi modi. Nel caso dello specchio, invece, è molto divertente, perché uno può vedere i diversi modi di oscillazione, semplicemente guardando la riflessione del raggio luminoso e dello specchio nell'interferometro, nel meccanismo interferometro. Ora non sto qui a spiegarlo, è già stato un'ora che sto parlando ininterrottamente. Però è molto divertente poter osservare diversi modi e diversi... diversi modi di vibrare chi ha uno specchio. In questo caso è stato molto divertente per me. Ovviamente questo è solo un preprint, quindi non è ancora passato sotto peer review e non so quanto nuovo, quanto amazing, quanto breakthrough si dice, quanto sia la novità di questo paper, se è qualcosa che finirà su Nature e sarà una novità molto grande, o se è qualcosa più specifico a un certo settore. Il paper si legge tranquillamente ed è molto divertente. un po' pieno di tecnicismi, quindi non credo che sarà un Nature. Ok. Avete altre domande? Aspetto qualche secondo. Vi ricordo un po' a tutti che noi siamo qua, in Science, ci potete trovare, ci potete trovare nei nostri canali, ovviamente nel canale YouTube, qui dove siete. Potete iscrivervi, potete accendere le notifiche. e poi potrete trovarci sui diversi canali social, in particolare Instagram, dove c'è un buon seguito, ma e Telegram, dove nel canale Chioccio la Scienza potete trovare tutto, potete trovarci tutti, e potete parlare, fare domande, avere conversazione, eccetera. Giorgio Occhi Pinti. Sei arrivato in chiusura? Purtroppo mi sa proprio di sì, a meno che non ci siano domande improvvise, a parte quella di Chiara, sei un po' in chiusura dal punto di vista fisico, ma niente paura, perché tutte le live sono salvate e potrei recuperarle qui su YouTube. E quindi potrai recuperare tutte le live che vorrai, incluso questa, e la bellezza di YouTube che puoi semplicemente adesso partire dal minuto zero e godertela tutta di filato. Purtroppo non potrai farmi domande, ma per farmi domande puoi venire sul gruppo Scienza e farmi tutte le domande che vuoi. Chiara. E come ti saresti vestito per Halloween se avessi avuto un budget illimitato per il tuo costume? Che domanda complicata. Io non rispondo bene a questo tipo di domande, vado un po' in ansia. No, non lo so, francamente non lo so, non sono molto da costumi, e così via. Come vedete questo costume è stato molto improvvisato. I bambini sono venuti a bussare. In realtà bussavano sempre quando avevamo le tende in cucina, ma proprio tutti i giorni ci salutavano, ci bussavano. Quando abbiamo messo le tende era smesso di comunicare con noi. Siamo molto tristi da questa cosa. Non sappiamo se togliere le tende, ma un po' di tende ci vogliono, ma che cacchio. Ok. Però no, gli ad Halloween in realtà vanno abbastanza in giro, ma non da noi. Sono molto rispettosi gli svedesi. Svezzeggiano Halloween, ma non casa per casa, perché sono svedesi. Figura di si vanno casa per casa. Ok, ragazzi, sono le 10. Non mi sembra che ci siano altre domande. Possiamo parlare quanto volete di Halloween e cose varie, ma magari è meglio farlo su Twitch in modo da non farci penalizzare dall'algoritmo. Quindi vi ricordo che per farci aiutarci potete sempre iscriverci e iscrivervi, mandarci una mancia con Mostra il tuo sostegno per Miss Science. Questa cosina col dollaro che vedete lì. Potete mandare dei super messaggi e soprattutto, però, condividendo e interagendo con noi. Grazie mille, grazie a tutti.